Visita il sito gruppoalbatros.it Brindarono per due ore o forse più con i boccali stracolmi di birra alla salute loro Di amici, animali, cose, non necessità Ogni occasione tornava utile per riempire e buttar giù tutto l'infiato Anche noi abbiamo un buon motivo per brindare La nostra casa editrice ha pubblicato in questi anni alcuni dei nomi più significativi Della letteratura nazionale ed internazionale Aldo Merini, Luciano De Crescenzo, Alberto Bevilacqua, Stefano Zecchi Cercateli in libreria Ma oggi sono qui anche per parlarvi della collana Nuove Voci Che ospita i migliori scrittori esordienti italiani E che ha già conquistato centinaia di migliaia di lettori Nuove Voci è un progetto ambizioso È la collana del settore più recensita e premiata d'Italia Finalmente arrivano in libreria scrittori che non sono solo nomi noti È in atto un importante processo di democratizzazione culturale Reso possibile anche grazie alla fiducia che i nostri autori hanno accordato alle nostre strategie di coproduzione Noi l'abbiamo definita rivoluzione editoriale E allora, la prossima volta che andate in libreria fate una scelta rivoluzionaria Invece della solita lettura acquistate un libro della collana Nuove Voci Hai scritto un libro? Invia!